vediamo ma buongiorno buongiorno a tutti buon lunedì buon lunedì di merda lo aggiungiamo nella rilascalia di questo di questo inizio video la domanda è la seguente come vi siete svegliati questa mattina tutto bene una bella mattinata un bel post partita emozioni qualcosa di che dentro vi ha lasciato un bel ricordo di ieri qualcuno ha qualcosa da dire scrivetelo nei commenti mi piace commento iscrivetevi dei after ragazzuoli ieri è andato in onda su sky da zona tv e tutti i simili strigli siti illegali e dal vivo da renzo barbera palermo cittadella e tutto potevo aspettarmi tranne una sconfitta sincera cioè inizio partita intendo tutto in panchina mancava lanna e mancava coreni c'era lanna al suo posto lanna che l'anno scorso ci ha fatto vincere tipo ci ha fatto vincere nel senso che era in panchina sul durante il 5 2 col modena se non sbaglio tanti cambi di formazione anche quest'oggi per ragazzi veramente parla di palermo cittadella sarebbe deleterio mentalmente per questa mattinata vi ricordo che poi oggi pomeriggio uscirà la reaction quando torno al lavoro la monto e ve la pubblico sono sconcertato io sono sconcertato perché per la mia visione di calcio c'è qualcosa che non va in questa squadra perché sono sempre più convinto che la colpa sia di tutti per per me non esiste non esiste che la colpa in uno sport collettivo di squadra di gruppo sia soltanto di una persona per me la colpa di tutti e quello che ho visto ieri è il bello che non è la prima volta che lo dico perché l'ho già detto ai tempi della Samp cioè ai tempi quando mi ha giocato contro la Samp che ho visto una squadra che non seguiva cioè è arrivata la vittoria col Brescia una squadra che non seguiva i movimenti che non seguiva ma mi spiegate perché la mia schermata dice che sono 9 infatti sono 9.07 non so quando uscirà il video io vedo una squadra che non lotta una squadra che non si incoraggia tra i loro sembra tornato ai tempi dell'anno scorso quando vedevamo il terzino litigare con l'esterno e l'esterno litigare col terzino tutti che si mandavano a fanculo ovviamente l'unica cosa che per svoltare a parte che non si parla di esonore in queste ore se ne ha parlato ieri subito post partita ma poi le voci sono andate via scemando scemando però siamo sicuri che sia soltanto colpa dell'allenatore non sono qui a prendere difese però io ho giocato calcio per tanti anni e vi assicuro che una squadra mentalmente non forte fatica con chiunque allenatore cioè ieri ragazzi non fare un tiro in 60 minuti perché contro il secondo tempo ragazzi perché il primo tempo l'abbiamo giocchicchiato ma nel secondo tempo più recupero non fare un tiro in porta in casa contro la squadra che si ti pressa alto si non molla mai si sta a gran coppo la rininchia però tu non fai un tiro in porta e dal settantesimo dici no meglio non perderla sta partita prendiamoci un punto e giustamente la prendi nel culo giustamente la prendi nel culo e ti piace anche giustamente il Barbera ma anche io ieri in live non so chi di voi c'era che sta guardando questo video io il gol del citarella ho applaudito spontaneamente perché era scontato che andasse a finire così ragazzi una squadra che non lotta per 45 minuti ma dove cazzo deve andare giocatori fermi giocatori che giocano in Serie A fino all'altro giorno che entrano in campo hanno 20 minuti per mangiarsi il campo pascolano raccolgono i fili d'erba salutano l'amico in tribuna a Monte Pellegrino e io ripeto non è qua per dare una giustificazione perché non me ne frega letteralmente un cazzo perché il rispetto è tutto ce l'avrò sempre però raga la colpa è di tutti pagherà l'allenatore giusto così perché nel calcio ovviamente non puoi cambiare 20 giocatori almeno che non ti chiami lo monaco e siamo a gennaio del 2000 e quindi ci penso non puoi cambiare tutti i giocatori quindi automaticamente pagherà il mister sì o rimarrà gli daranno tempo o in queste settimane se ne parlerà secondo voi è l'unica cosa che si può fare per provare a rimettere in piedi una barca che in questo momento sembra sembra la deriva sembra completamente la deriva perché è una squadra non coesa è una barca che naviga a mare aperto senza gps comunque ragazzi non so se verrà cacciato non si sa nulla già leggo tutti che inviiscono contro il city group eravamo io zamparini tutte ste cose madonna questi discorsi non li reggo non li reggo perché mi da fastidio semplicemente sentirli è un momento particolare adesso per due settimane addio calcio non ne parleremo più però ragazzi dobbiamo andarci una svegliata tutti dal primo all'ultimo tutti tutti perché questi tifosi questa città per chi ti fa parere meritano rispetto e se ieri si sono alzati i cori contro contro Corini ma anche contro la squadra perché la CNI ha detto Corini vattene via la gradinata ha seguito la CNI la 12 ha fatto i cori di tirate fuori i coglioni eccetera eccetera poi sono stati aspettati tra virgolette i giocatori a fine partita sotto la tribuna per incitarli tipo contestazione comunque però basta raga questo video mi bastava entrare in questo video e dire guardatevi le dichiarazioni di Brunori a fine partita basta anche quello però la colpa è anche sua la colpa è di tutti non esiste uno non responsabile no non esiste il calcio è questo la colpa è di tutti raga ditemi la vostra con un commento qui sotto vi ringrazio per la visione vi abbraccio sto perdendo la voce vado a lavoro spero che questo video esca il più breve tempo possibile ne dubito ma speriamo